Sono un po' indecisa perché vorrei utilizzarla comunque per prepararmi tutte le altre live, quindi se no non saprei come fare E nulla, questa era una piccola novità Zucca Nanni, Nanni, questo è per te Zucca cazzo, ma non la mia patata perché te piacerebbe questo, zucca il cazzo Dovresti provarci ogni tanto, guarda che viene bene, secondo me sei pure portato Niente, sono proprio arrabbiata, dico cose che non dovrei dire Giulia! Grazie!